Ambrata al ginepro, rossa doppio malto, doppio malto al miele e birra di frumento. Queste sono alcune delle tipologie di birre artigianali prodotte sul nostro territorio. Un fenomeno che cresce costantemente, secondo i dati coldiretti, nasce almeno un berificio all'anno nel Piacentino, portando così a una quarantina di etichette della bevanda a base di malto e lupolo. La filiera della birra ha un grande impatto su quello che è l'economia del territorio, soprattutto se parliamo di occupazione e di under giovani, che sono comunque la categoria più innovativa, più attiva, che cercano di creare delle tipologie e delle varietà differenti, con una ricerca sull'origine, sulla tracciabilità, sul legame con l'azienda agricola, ma anche nelle forme di vendita, quelle che sono non solo gli spacci annessi ai laboratori, ma anche l'e-commerce oppure l'attività di vendita in fiere e manifestazioni, non solo sul territorio, ma anche a livello internazionale. Secondo l'osservatorio di coldiretti, conviene produrre birra artigianale? La filiera della birra è sicuramente una filiera innovativa, quindi è auspicabile investire in questo settore, soprattutto quindi per dare un valore aggiunto a quello che è il comparto, e il prodotto, con una ricaduta sul territorio per quanto riguarda le occupazioni, l'economia, ma allo stesso tempo quindi quella che è la valorizzazione del prodotto, proprio perché le aziende agricole possono lavorare nell'ottica di chiudere tutta la filiera, dalla produzione quindi di cereali del malto, quindi alla trasformazione e la vendita della bottiglia. Mauro Lafranconi è uno dei sette produttori di birra del nostro territorio. Il ciclo nasce dai campi e per produrre birra, anche quella industriale, chiaramente ci vuole un'azienda agricola. La materia prima è l'orzo, però non si può usare tal quale. Il primo processo, una volta trebiato il cereale, è la maltatura. Noi siamo l'unica azienda in Italia a avere un maltificio aziendale che ci permette appunto di trasformare l'orzo in malto. Il malto poi successivamente viene trasformato in birra. Un processo che richiede sforzi, richiede tempo? Richiede molta passione, abnegazione, processo di maltatura dura una settimana, quindi quando ci sono i cambi di passaggi da un ciclo all'altro, anche se è sera, anche se è notte, bisogna stare vicino alla macchina, però dietro c'è la consapevolezza, la passione di fare un prodotto proprio, finito, che nasce sulla propria terra e che rispetta la scelta di vita che facciamo 32 anni fa. Sì, ma te dico, l'abbiamo aperto, era puro malto.